Apertura ufficiale a case nuove di Pila dei lavori di Orto Tuo, il condominio di orti pensato come luogo di aggregazione sociale dove proprietari dei diversi appezzamenti possono coltivare prodotti biologici nel massimo della naturalezza del relax rispettando ovviamente un regolamento assicurato da parte dei promatori l'adeguata formazione degli utenti. Orto Tuo è un condominio di orti, è una nuova evoluzione, un nuovo concetto di orto, è un'evoluzione proprio culturale dell'orto stesso. È un sistema di aggregazione dove le persone possono non solo venire a coltivare l'orto ma anche rilassarsi, rilassarsi in spazi verdi messi a disposizione proprio da Orto Tuo. Le persone possono coltivare in maniera biologica tutto ciò che fino ad oggi non hanno potuto mai fare perché a parte gli orti del comune che sono ben organizzati anche loro ma questo è proprio un concetto, un'evoluzione stesso di orto del comune in quanto c'è un regolamento di condominio, ci sono dei agronomi specializzati che passo per passo vengono sistematicamente in questo luogo e istruiscono queste persone nel coltivare. Oltre all'aggregazione sociale si è voluto abbinare la solidarietà instaurando la partnership con l'associazione Avanti Tutta di Leonardo Cenci. È un sodalizio che appena Federico me l'ha proposto non ci ho pensato un secondo perché promuove veramente in perfetto stile il nostro messaggio dell'associazione stessa che è quello appunto di una sana alimentazione consapevole e questo progetto Orto Tuo davvero quasi mi ha stupito dalla lungimiranza di Federico. Il vice sindaco di Perugia Urbano Barelli ha ringraziato per l'iniziativa che va ad aggiungersi a quelli esistenti nel comune. Noi siamo lieti di questo avvenimento, di questa iniziativa di un privato, noi come comune abbiamo attivato gli orti urbani a San Matteo degli Armeni, stiamo lavorando per diffonderli anche nel resto della città ma è importante che anche i privati si muovano in questa direzione perché questa è la direzione giusta nella quale noi troviamo la gestione del territorio corretta, la coltivazione e la capacità dei cittadini di riappropriarsi di un modo giusto di gestire il territorio e quindi di coltivare.